Io ho riproposto nuovamente un'interrogazione che ho già fatto la volta scorsa, perché il Comune di Pozzu non può andare avanti così con solo dirigente, perché a giugno se ne va pure il Comandante Vigili Urbani. E già allora sollecitare l'amministrazione a muoversi affinché mettesse in campo tutte le procedure per poter assumere nuovi dirigenti. Pare che l'abbia fatto o comunque lo stiano già facendo? Sì, hanno avviato le procedure sul presupposto che noi siamo un Comune non strutturalmente deficitario, che è vero a ieri. A oggi noi ritorniamo ad essere strutturalmente deficitario. Questa cosa comporta? Questa cosa comporta. Se noi entro quest'anno non facciamo i dirigenti, l'anno prossimo che siamo nuovamente strutturalmente deficitarie perché hanno cambiato gli indici, non potremo fare nulla se non previ autorizzazione da parte del Ministero. A mio modesto avviso, così come hanno preso la piega e quindi le richieste tardive fatte in modo tardivo, le procedure che prevedono prima l'esame della mobilità coattiva, poi le possibilità di mobilità volontaria, poi il bando per i dirigenti, questo Comune nel 2013 rischia di rimanere senza dirigenti e nel 2014 non possiamo farlo. Quindi o si muovono o questo Comune impatterrà ancora di più col fatto che avremo una struttura senza capi, con un unico dirigente perché riperrà solo Costiga, perché il pubblico a giugno va in pensione. Grazie. 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 Grazie.